Onorevoli parlamentari, scriveva Indro Montanelli, ritengo che tra i diritti dell'uomo ci sia anche, anzi soprattutto, quello di congedarsi dalla vita, quando questa sia diventata per lui soltanto un calvario di sofferenze senza speranza e che, mettendolo a merced degli altri, gli abbia tolto anche la possibilità di difendere il proprio pudore e quindi la propria dignità. L'obiezione dei cattolici è che la vita, essendo un dono del Signore, solo lui ha il diritto di togliere alle sue creature. Ed è su questo punto che io voglio dissentire. Io non sono purtroppo un credente, ma se lo fossi, troverai sacrilego attribuire al Signore tanta crudeltà verso le sue creature. Onorevoli parlamentari, non siate crudeli, siate liberi fino alla fine, discutete di eutanasia legale. Grazie.